Le innovazioni tecnologiche riguardano tutto l'ambito di quelle che sono le apparecchiature dall'ecografia che oggi utilizza anche ecografia con mezzi di contrasto, c'è la sosonografia alla termografia computerizzata che oggi fa tantissimo anche cardio-tac e la risonanza magnetica ad esempio un ambito di applicazione sicuramente molto importante e innovativo è quello della prostata. Poi abbiamo tutta quella che è l'innovazione tecnologica in ambito di radiologia interventistica e dobbiamo distinguere due momenti, sia l'innovazione tecnologica dei device e poi l'innovazione tecnologica delle procedure e delle apparecchiature che abbiamo a disposizione per trattare i nostri pazienti. Sicuramente tutti i tumori primitivi e secondari del fegato, i tumori primitivi e secondari del polmone, i tumori del rene, siamo ormai da un po' di tempo anche facendo dei trattamenti di tumori del pancreas, possono essere trattate le metastasi osse anche a scopo palliativo e soprattutto quello che possiamo dire fondamentalmente è che la radiologia interventista consente dei trattamenti mini-invasivi che migliorano sicuramente la qualità della vita e portano il paziente molto più velocemente al recupero funzionale. Sicuramente il rapporto medico-paziente è alla base di tutto quello che è a mio avviso l'healthcare, quello che è soprattutto anche la radiologia perché il rapporto tra medico e paziente diventa un rapporto fiduciario, quindi il paziente viene da noi e si sottopone a dei trattamenti che noi diamo a spiegare molto bene, ma come può la tecnologia? Sicuramente oggi con le apparecchiature che abbiamo a disposizione possiamo fare dei trattamenti molto più mirati, tailored sul paziente, customizzati non solo sul paziente ma anche sulla singola lesione e dove è localizzata la stessa.